buongiorno sono gino fabbri siamo nella mia pasticceria a bologna oggi presentiamo il panettone basso classico tradizionale vediamo subito gli ingredienti del primo impasto farina acqua zucchero lievito madre burro e tuorli il nostro lievito madre che viene portato avanti da tanti anni deve essere rinfrescato con acqua farina e lievito madre rinfrescato precedentemente diverse volte fino ad arrivare alla triplicazione del volume quando il lievito è maturo possiamo procedere all'impasto si parte dall'acqua una volta che noi mettiamo l'acqua nella nostra impastatrice una impastatrice che abbia circa 70 battute al minuto mettiamo anche la farina e di lievito madre poi gli facciamo prendere nervo quando comincia ad avere una certa lucentezza e si stacca dalle pareti della bacinella cominciamo ad inserire il burro e quando avrà cominciato a prendere nervo anche questo impasto inseriamo anche i tuorli servono circa dai 20 ai 25 minuti finito questo impasto e lo collochiamo dentro a dei recipienti che siano belli capienti perché lì dovrà triplicare il suo volume e la triplicazione deve avvenire in celle dove ci sia una temperatura costante di almeno 28 gradi con una umidità media la lievitazione dell'impasto durerà tra le 12 e le 14 ore una volta trascorse le 14 ore siamo pronti per il secondo impasto partiamo con la farina poi incorporiamo l'impasto quando la massa è in tensione procediamo con gli altri ingredienti aromi zuccheri cioè miele e zucchero semolato sale il tuorlo il burro l'impasto avrà preso un po di calore gli andiamo a mettere un po di ghiaccio e lo faremo riprendere questo nervo per poter inserire i cubetti di arancio e l'uvetta sultanina per la quasi totalità degli ingredienti utilizzo prodotti italiani per lo zucchero utilizzo uno zucchero da barbabietola dagliato fine e che mi garantisse anche un'ottima qualità nel prodotto finale riguardo agli aromi gli aromi sono molto importanti per il panettone cioè è la nostra personalizzazione del panettone in una parte di burro di cacao fuso noi andremo ad inserire le bacche di vaniglia bourbon del madagascar andiamo a inserire la buccia d'arancio grattugiata e andiamo a mettere anche un po di pasta di arancio poi la lasceremo ferma per almeno 24 ore da quando noi la prepariamo fino a quando non andiamo ad usare dopo circa 50 minuti noi siamo pronti per togliere questo impasto dall'impastatrice e lo metteremo sul tavolo per poter lasciarlo riposare un attimo prima di andare a fare le pezzature per il chilo noi utilizziamo 980 grammi di prodotto più la glassatura perciò con il calo peso torneremo al chilo procediamo con la pirlatura del pezzo tagliato poi l'andremo a mettere nel pirottone da cottura e l'andremo mettere in cella di lievitazione a 28 30 gradi circa per 7-8 ore circa quando il nostro panettone avrà raggiunto quasi la sommità del pirottone verrà glassato con una glassa che è a base di mandorle tritate, albume, farina di mais, zucchero nel mixer noi inseriamo tutti questi ingredienti e li frulliamo in velocità molto forte per poter avere una quasi crema di questa massa poi aggiungeremo un po' di mandorle con la buccia e granella di zucchero anche quella da barbabietola siamo pronti per la cottura posizioniamo il nostro forno ventilato a 160 gradi i panettoni dovranno cuocere per circa 50 minuti è importante controllare la cottura anche visivamente passati 50 minuti con una sonda digitale misureremo la temperatura del prodotto all'interno e quando avrà raggiunto i 96 gradi siamo sicuri che questo prodotto avrà l'acqua libera già trattenuta dalla stessa cottura i nostri panettoni cotti vengono tolti dal carrello posizionati sul tavolo e con la stecca porta panettone li stringiamo e la giriamo a sua volta capovolta la stecca per essere posizionata sulla rastrelliera porta panettone trascorse 12 ore dopo aver posizionato il panettone toglieremo questi stessi panettoni e li mettiamo all'interno di un sacchetto immoplefan dandogli una leggera spruzzo di alcol vanigliato lo chiudiamo ed è pronto per la confezione bene abbiamo visto il nostro panettone classico tradizionale basso però con lo stesso impasto andiamo a produrre anche quello col cioccolato quello con l'albicocca e i cubetti di pasta mandorla e quello senza canditi mi auguro che con questa ricetta voi possiate produrre il vostro panettone e vi auguro anche che possa essere di grande soddisfazione come lo è per me ricordiamoci che il panettone è il nostro dolce italiano più riconosciuto nel mondo ed è questo che mi fa spingere avanti la voglia sempre di rinnovarmi su questo prodotto tradizionale